Reina della Paz è un brano in sei ottavi basato su un arpeggio sull'accordo di A maggiore A maggiore e A4 Poi passa nell'accordo di Re maggiore, Re maggiore e settima più E quindi ritorna nel A Questa è la prima parte della canzone, ve la faccio sentire collegata con l'introduzione che si esegue nella stessa maniera Grazie a tutti Poi la canzone va nell'accordo di Mi maggiore e passa con questo rivolto ad un Mi settima col Sol diesis a basso, quindi Mi settima con Sol diesis a basso. Dobbiamo spostare un po' le dita perché non avendo dita di gomma siamo costretti a spostare la posizione, quindi Mi. Poi ritorna nel La e la con la quarta. Quindi. Ripete due volte questo passaggio. Verso il finale del brano abbiamo l'accordo di Mi maggiore, Mi fratto Fa diesis, Mi settima fratto Sol diesis, e questi due stacchi, Re, La. Poi la canzone si conclude con La maggiore, Mi maggiore e l'arpeggio introduttivo. Il tutto viene ripetuto. Adesso vi farò sentire tutto il brano nella sua completezza. La maggiore, 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 la maggiore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.